Parliamo oggi di leucemia linfatica cronica. Dal congresso americano di oncologia LASCO arriva infatti una conferma importante del beneficio offerto da un farmaco mirato a Calabrutinib ai pazienti con leucemia linfatica cronica non trattati in precedenza. La conferma proviene da un aggiornamento di uno studio molto importante, lo studio Elevate-TN, che ha anche portato all'approvazione da parte del lema di questo farmaco. Noi ci facciamo a raccontare i risultati di questo studio e le loro possibili implicazioni da un esperto, il professor Antonio Cuneo. Professore, al congresso ASCO sono stati presentati i risultati aggiornati dello studio Elevate-TN. Ci ricordi in che cosa consiste questo studio? È uno studio che ha confrontato in oltre 500 pazienti tre tipologie di trattamento, due che utilizzavano un inibitore dell'aboluto tirosinchinasi di nuova generazione, H-Laboruntinib, molto selettivo ed efficace, con o senza l'anticorpo monoclonale anti-CD20 o binutuzumab e nel terzo braccio del trial clinico i pazienti venivano allocati alla terapia classica chemoimmunoterapica per sei cicli clorambucile con l'anticorpo monoclonale anti-CD20 o binutuzumab. Si voleva andare a misurare l'efficacia e la tolleranza di questi due trattamenti confrontandoli in uno studio randomizzato. Quali erano gli end point più importanti di questo studio? Erano la sopravvivenza libera da progressione e la sicurezza delle diverse tipologie di trattamento. Al congresso ASCO di quest'anno, come dicevamo, sono stati presentati i dati nuovi dello studio Elevate-TN. In che cosa consiste questo aggiornamento e perché è importante? È un aggiornamento importantissimo perché consente di verificare l'efficacia del trattamento continuativo con acalabrutinib con o senso binutuzumab per un periodo molto lungo, 4 anni. È fondamentale quando si introduce un trattamento nuovo per i medici che poi andranno a proporre ai pazienti avere informazioni su un periodo lungo di osservazione, soprattutto nei trattamenti di lunga durata perché gli eventi avversi possono modificarsi nel tempo e quindi il medico vuol sapere con esattezza cosa capita in un tempo ragionamente lungo quando le terapie sono di durata indefinita fino a progressione. Quindi è un aggiornamento importantissimo, fondamentale per poi l'utilizzo del farmaco. Professore, dunque che cosa emerge da questo aggiornamento di dati a 4 anni dello studio Elevate-TN per quanto riguarda l'efficacia di acalabrutinib da solo e in combinazione? Emergono dati molto confortanti perché a 4 anni si è osservata progressione solo nel 13% dei pazienti, quindi oltre l'80% dei pazienti continuava a essere in terapia senza avere progressione di malattia e questo dato è un risultato di grandissima importanza perché il confronto con la migliore chemoimmunoterapia che è clorambucile e lo stesso anticorpo monoconale obinutuzumab vede una progressione nel 75% dei pazienti. Quindi da una parte ne progrediscono il 10-15%, dall'altra il 75% e quindi la superiorità di questo trattamento è molto molto evidente. Sono stati valutati anche i risultati nei vari sottogruppi di pazienti? Sì, sono stati valutati i risultati nei vari sottogruppi di pazienti, è un dato di grandissimo interesse, grandissimo, è che nei pazienti con lesioni genetiche che li rendono affetti di una malattia molto difficile da trattare, con oltre 4 anni di follow-up medio, la sopravvivenza libera della progressione non è raggiunta, quindi vuol dire che più del 50% di questi pazienti difficilissimi da trattare, in particolare quelli con le lesioni che riguardano il gene piccolo, 53, sono liberi da progressione. Anche questo è un risultato che deve essere sottolineato perché erano pazienti che noi avevamo sempre visto come pazienti difficili a trattare, con ricadute precoci, resistenti a trattamenti. Veramente un vero cambio di scenario. Professore, lo studio Elevate TN è stato pubblicato l'anno scorso su Lancet con un follow-up di dati a due anni. Come si raffrontano questi dati nuovi presentati ora all'ASCO con quelli già pubblicati? Il follow-up più lungo di quattro anni rispetto a due anni ci conferma un'elevatissima percentuale di risposte che va oltre il 90% con 27% di pazienti che ottiene a quattro anni la risposta completa, che è un dato non trascurabile. Il secondo aspetto è che ci sono pochi eventi di progressione nei successivi due anni rispetto ai primi, cioè si parla di pazienti che avevano una sorpresa di progressione a due anni del 93%, qua siamo all'87%, quindi nessuna sorpresa in termini di attivazione di malattia neanche nei soggetti con genetica sfavorevole nei successivi due anni. È un dato non trascurabile che però merita un'osservazione ancora più lunga, è un iniziale possibile vantaggio di sopravvivenza nei pazienti trattati con acalabrutinib e obinutuzumab rispetto ai pazienti trattati con la tradizionale chemimunoterapia. Un vantaggio di sopravvivenza richiede un periodo di osservazione molto lungo perché per fortuna gli eventi di decesso sono molto pochi, quindi questo qui è un dato che con un follow-up ulteriormente allungato potrà definitivamente stabilire questa terapia come una delle scelte migliori per i pazienti con le cimile enfatica cronica che necessitano per la prima volta di un trattamento della loro malattia. Dal punto di vista della sicurezza, che cosa è emerso da questa nuova analisi dello studio delle VTTN? Sono emersi dati molto interessanti e molto confortanti perché qui c'è un aspetto da sottolineare, l'età mediana dei pazienti era attorno ai 70 anni, quindi i pazienti mediamente anziani. Bene, una delle misure di tollerabilità migliore e di efficacia migliore per questi pazienti è il numero di pazienti che hanno dovuto sospendere il farmaco o per progressione o per eventi avversi. In questo caso, a 4 anni, il numero di pazienti che ha dovuto sospendere la calabrutine per eventi avversi è attorno al 12%. Se teniamo conto dell'età dei pazienti che hanno ricevuto il farmaco è un risultato di grande, grande efficacia. Quindi la sicurezza si conferma buona. La percentuale di pazienti che hanno sviluppato fibrillazione atriale si colloca tra il 4 e il 6% a seconda della presenza o dell'assenza di binotuzumab, che la fibrillazione atriale in questi pazienti, soprattutto a questa età, è un fenomeno che può avvenire comunemente, indipendentemente dal trattamento, va detto che qualche evento di fibrillazione atriale si è verificato più frequentemente nei pazienti che assumevano la calabrutine rispetto alla tradizionale chemoimmunoterapia. Tutto sommato sono eventi di grado minore che non pregiudicano la qualità di vita dei pazienti e quindi confermano il profilo di sicurezza di questo farmaco che è molto buono. Per concludere, quali sono i valori e l'importanza di questi nuovi risultati dello studio delle VTTN e come dovrebbero impattare, secondo lei, sulla pratica clinica? Sono risultati che testimoniano grande efficacia e tolleranza molto buona come era lecito attendersi, con un periodo di osservazione importante, 4 anni, in pazienti e mediamente anziani. Quindi sicuramente, soprattutto nei pazienti con un profilo di malattia che noi riusciamo a prevedere non risponderebbe bene alla chemoimmunoterapia con coladucilo binutusa, questo trattamento sarà sicuramente un trattamento di ampio utilizzo che migliorerà la sopravvivenza libera alla progressione di questi pazienti e speriamo anche la sopravvivenza. Grazie a tutti.